Balla ragazzi bentornati qui sul mio canale, oggi sono qui incredibile per portarvi un po' di Assassin's Creed perché sono alla Uplay Lounge, infatti questa non è la mia camera, non sono diventato immediatamente miliardario Ma comunque oggi abbiamo trovato, anzi ho provato insieme a Frax e Johnny Assassin's Creed quindi probabilmente vedrete anche dei video sui loro canali, basta che andate a controllare ora non so benissimo le date, non so gli embarghi Comunque dato che avevamo già visto Assassin's Creed Syndicate durante la conferenza Ubisoft che abbiamo visto ieri oggi ci hanno dato la possibilità di vedere questa incredibile Lounge al 71esimo piano infatti poi mi faccio vedere pure un po' della vista che c'è perché Los Angeles non ha vista, fa schifo però è abbastanza in alto quindi fa abbastanza impressione vi farò anche vedere un po' come è fatta la Lounge, vi farò vedere le frecosa, le fregene che ci sono in giro ma comunque parlando immediatamente del gameplay, allora ci hanno fatto provare una missione che consisteva in praticamente tre parti la prima che dovevamo raggiungere una zona rossa per disintegrare dieci nemici e liberare il posto, la fortezza appunto da questi nemici ovviamente io dato che sono il più forte del mondo l'ho fatto in modo stealth, infatti voglio 20.000 like solo per questa cosa gli altri si stavano ammazzando per fare qualcosa e io l'ho fatto come Cristo comanda dovevamo appunto liberare questa fortezza, era abbastanza complicato perché a parte che hanno messo delle cose nuove tipo c'è il rampino che ci permette di praticamente andare da un posto all'altro, da un tetto all'altro senza fare il giro di Cristo pari il rampino, ti arrampichi e poi scende da solo, se è indicesa altrimenti fa tipo tipo boy scout il sistema di combattimento alla fine è sempre quello anche se durante questa beta, anche durante questa alpha perché ricordiamo che è un alpha, infatti non è assolutamente come sarà alla fine, anche se non c'è un glitch neanche a pagarlo cioè è veramente un alpha perfetta, sembra il gioco finale non c'era la possibilità di fare i combattimenti con la spada, ma avevamo solo la pistola, i coltelli da lancio e i pugni poi la missione proseguiva dovevamo scappare con la carrozza, diciamo che ci hanno fatto fare tre tentativi io al primo tentativo sono stato un po' una merda perché mi hanno chiuso, cioè mi avevano chiuso in modo abbastanza raro mi passa la gente dietro non curante dei miei 650.000 iscritti e adesso passa una che è abbastanza comunque ingannevole esattamente, mi sta rilassando perché è sempre non curante comunque di quello che io sto facendo le guardo il culo, esattamente quindi c'era questa parte di inseguimento in cui dovevamo scappare da quelli che ci inseguivano ovviamente e rincorrere una tizia una volta scappati, una volta riuscire a scappare poi dovevamo arrivare in un altro punto in cui partiva la gara tra gang criminali di Londra perché ricordo che comunque ambientata a Londra come ho detto all'inizio del video, lei è stata intelligente, mi è passata davanti quindi c'era la possibilità di vedere un po' come funziona il combattimento corpo a corpo, la pistola e soprattutto i coltelli da lancio che ho usato in una maniera impressionante, ho usato solo coltelli da lancio io perché sottamarre raga, cioè tu miri quelle due, te lo lancio in quanto te lo lancio e ammazzi tutti dal primo all'ultimo come hanno detto comunque durante la conferenza Ubisoft di cui ho preso dei grandissimi appunti è ambientato a Londra durante la rivoluzione industriale ed è diciamo il primo Assassin's Creed nell'era moderna perché è praticamente fine 1800 quindi è veramente, si stiamo avvicinando sempre di più comunque ai giorni nostri con questa saga che ormai dura da tantissimo e sinceramente io ci ho giocato dal primo all'ultimo sapete perfettamente quanto mi possa piacere Assassin's Creed, il fatto comunque dell'ambientazione della storia molti dicono che rimane sempre uguale ma l'affascino che secondo me c'è Assassin's Creed è la storia che ti immerge proprio nel gameplay e ti fa credere di essere un assassino con la lama comunque nella storia di questo Assassin's Creed gli assassini combatteranno per riprendere la città di Londra dal male, dal male che l'ha oppressa comunque da quello che ho potuto provare mi è piaciuto veramente, veramente tanto ovviamente il gameplay non, erano 8 minuti praticamente di gameplay giocabile quindi non era free roaming, non era nulla di, potevamo andare in giro per Londra ma comunque già si vede che è molto fluido e che comunque ci hanno lavorato parecchio per renderlo diverso dagli altri con delle innovazioni quali possono essere il rampino, l'ambientazione e tutte le migliorie grafiche che hanno inserito all'interno di questo gioco, non c'è ancora una data d'uscita non sappiamo se ci sarà una beta provabile o una demo ma penso di sì come ho detto questa era un'alpha quindi non è assolutamente la versione finale del gioco sono stato molto contento di provarlo come avevo provato l'anno scorso l'ultimo Assassin's Creed come sapete io ormai viaggio con Ubisoft perché Assassin's Creed ragazzi Assassin's Creed, Assassin's Creed quindi mi ha fatto molto piacere provarlo in questa Uplay Lounge che vi ho fatto un po' vedere durante questo video comunque spero che questa la mia coverage della Ubisoft vi stia piacendo probabilmente in questi giorni usciranno dei video sulla conferenza sicuramente è già uscito uscirà un video su Trackmania che raga io vi dico le sdrogo cose usciranno su Trackmania almeno un episodio quando uscirà quel gioco perché sarà il gioco più sdrogo dell'anno penso, del millennio e soprattutto un video su Rainbow Six Siege che sembra veramente figo come gioco comunque spero che questo video vi sia piaciuto lasciatemi un like, un commento e scrivetemi sotto nei commenti se aspettate questo Assassin's Creed o meno, cosa vi aspettate dal gioco e voglio assolutamente commentare con voi questo titolo perché è uno dei miei preferiti della Ubisoft ci vediamo alla prossima che sarà domani con il video credo di Rainbow Six oppure è uscito prima, non lo so lo sapete dalla mia organizzazione uguale ci vediamo alla prossima, bella ciao 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 ciao